Tornerai lì, ma non è più riconoscibile. Tornerai in quella via, ma non è più riconoscibile. Tornerai alla vecchia piazza della vecchia chiesa, ma non è più riconoscibile. Tornerai a quella porta, ma non ci sono più quei nomi. Tornerai a ricordare i volti, i momenti, le voci, ma non c'è più niente di riconoscibile. Tornerai al vecchio camposanto, ma non è più riconoscibile. Ma allora perché sei tornato? E qui ascolti una voce in te che dice il perché fa parte del funzionamento dell'intelligenza umana. Forse non c'è nessun'altra cosa sul pianeta che chiede un perché come fa il cervello umano. Tutto è come deve essere. Il perché sono io e tu sei solo un intelligente. Adesso tutto ciò che ti viene in elaborazione mentale dopo questa lettura è solo la misura della tua possibilità intelligente. Grazie a tutti.